Nuova protesta dei residenti del quartiere d'Ido di Catanzaro, costretti a sopportare il cattivo odore del depuratore situato a ridosso del quartiere. In tanti sono scesi in piazza per chiedere una soluzione al più presto. Sotto il caldo sole di giugno, circa 200 persone hanno partecipato alla manifestazione spontanea, caratterizzata da striscioni, cori e anche qualche momento di tensione. L'aria del quartiere, ci dicono, è irrespirabile. È un mese e mezzo che abbiamo puzza infinita notte e giorno nelle nostre case, soprattutto nel rione Corace e poi per tutta Lido, tant'è che tanta gente comincia a rendersi conto che è un problema molto molto grave. Il depuratore va spostato da Catanzaro Lido, assolutamente. Vogliono fare delle riparazioni, modificare in loco. Noi non ci stiamo, quindi in loco non deve essere più, deve essere spostato il depuratore in ogni caso e in ogni momento. Noi lotteremo per questo. Basta questa puzza, noi cittadini di Lido non ce la facciamo più. Ci vuole un nuovo depuratore magari nella zona di Virghello, come magari d'altronde era già stato previsto. Per cui questo si mette a posto e si deve attuare un progetto per un nuovo depuratore.